Musica Romanzi, saggi, antiche riviste e libri rari su Napoli e la sua storia saranno presto online, consultabili comodamente con un click. Una rivoluzione digitale resa possibile dalla convenzione stipulata tra Google Books ed il Ministero per i beni e le attività culturali, con l'intento di preservare parte delle inestimabili collezioni custodite e diffondere allo stesso tempo la nostra cultura nel mondo. Insomma, buona parte dell'immenso patrimonio librario conservato nella Biblioteca Nazionale di Piazza Plebiscito si trasferisce in rete e sarà fruibile gratuitamente da qualsiasi PC. Il progetto ambizioso si intitola Biblioteca Italiana e dopo Roma e Firenze ha coinvolto anche Napoli, che vanta una raccolta di oltre 2 milioni di volumi nella pubblicazione di migliaia di opere libere dal copyright. Google è utilissimo ed è importantissimo che Napoli partecipi a questo progetto, però è anche importante frequentare quella che è la più bella biblioteca d'Italia. Napoli ha per esempio i papiri, i vercolano, i manoscritti straordinari ed è un sito che è particolarmente bello, dove è bello stare. I volumi interessati, tutti pubblicati entro la fine dell'Ottocento, sono catalogati presso la Biblioteca Vittorio Emanuele III, che sin dai primi anni 90 offre servizi di archiviazione telematica e conta ad oggi 130 strutture collegate. Successivamente i testi sono inviati al centro di digitalizzazione Google per la scansione e l'inserimento in rete. I primi libri saranno online tra il 2012 e il 2013 e con una cadenza di 5 mila al mese. Questo era il sogno degli umanisti, il sogno degli umanisti di riuscire a raccogliere tutto lo scibile, quindi la tecnologia moderna, quella di Google, rende possibile la realizzazione di un sogno antichissimo che era il sogno degli umanisti di creare la Biblioteca Universale. Grazie a tutti!